Mi chiamo Giacomo Bergamini, sono un chimico e sono un ricercatore universitario. Abito a Bologna ormai dal 1998, quindi sono stato adottato da questa città. Io sono lombardo, vengo da Mantua e poi però non sono più riuscito a staccarmi dalla città perché mi sento ormai veramente bolognese. Visto la mia professione e la mia storia, credo che gli argomenti di cui mi troverò a discutere con gli altri componenti della lista sono le cui riguardo la parola ecoimpronta e quindi la sostenibilità ambientale, energetica ed ecologica della città. Tutto quello che riguarda il tessuto universitario partendo dai ricercatori agli studenti fino ad arrivare al professore ordinario perché credo che la città non possa fare a meno di dialogare con l'università poiché entrambi sono una grossa risorsa l'uno per l'altro e quindi questi due mondi hanno necessità di parlare per aiutarsi e per migliorarsi entrambi. L'università ha bisogno della città e la città ha bisogno dell'università.